ciao a tutti come state benvenuti sul mio canale mi chiamo ruben e questo sarà il primo video che faccio in italiano ho deciso di creare questa serie di video in italiano per condividere con voi da una parte la mia evoluzione per quanto riguarda questa lingua e dall'altra condividere con voi le mie esperienze e parlare su cosa mi è successo con questa lingua perché c'è veramente tanto da spiegare e penso vi possa aiutare anche a voi sono spagnolo e come sapete a volte gli spagnoli abbiamo questa tendenza a parlare l'italiano oppure lo spagliano cioè una versione che si trova tra l'italiano e lo spagnolo con le parole mescolate per questo motivo è difficilissimo per me ritrovare le parole sicuramente mi mancheranno tante ma devo fare questo video e devo spiegare questa situazione perché sicuramente vi è capitato dato che comincio da dove sì l'italiano l'ho studiato in un contesto accademico soltanto per due anni quando studiavo all'università ho fatto gli studi di filologia inglese ma ho aggiunto delle altre lingue l'inglese logicamente era la prima lingua straniera e poi avevo il francese e poi ho scelto italiano e greco e ho dato l'esame del c1 e ho questo c1 di greco ma per quanto riguarda l'italiano è una storia completamente diversa è una storia di incubi è una storia di enferi è una storia di fiamme non è storia così carina con gli animalini che ballano non è così con l'italiano ho avuto una relazione veramente dannosa motivata da dal perfezionismo maniacale che abita in questo corpo in questa mente e a causa di questo perfezionismo mi sono bloccato tantissime volte che volevo parlare che volevo esprimere i miei pensieri mi sono bloccato veramente tanto infatti tutti i libri quaderni di italiano che avevo li ho buttati è arrivato un punto in cui non volevo né vedere questa lingua non volevo non so perché ma ma è capitato questo è accaduto ho buttato i libri ho buttato i quaderni avevo alcune cosine nel computer e le ho cancellate tutto ho fatto sparire tutto l'italiano che avevo nella mia vita diciamolo così non ho le parole perfette ma vabbè ed ho avuto questa relazione strana con l'italiano perché penso una ragione sia che abbia cominciato a studiare l'italiano nello stesso momento quando ho cominciato a studiare il greco e per questo mi sono centrato sull'altra lingua e ho lasciato l'italiano un pochino indietro e per questo cosa è successo il tempo è passato e ho vissuto con questa voce di autosabotaggio che mi diceva ogni tanto non ce la farai mai il tuo italiano fa veramente cagare parli un italiano di merda e non ce la farai più e non ne vale la pena non merita l'impegno perché già parli due tre lingue ma a che ti serve era un pochino questa voce come quella ragazzina del tiktok che dice ma che tipo di senso hai con la minigonna ma ma per me ma nel mio caso era ma che tipo di senso hai con l'italiano se avete visto il mio video con i goals per quest'anno e cioè il video degli obiettivi per quest'anno in quel video ho detto che volevo cercare che volevo cercare a fare delle cose diverse delle cose che mi facevano paura oppure mi davano paura in spagnolo diciamo mi danno paura ma non non ricordo adesso se in italiano e mi fa fa paura me lo potete dirmi ecco me lo potete chiarire nei commenti e ancora adesso che sono qui sto parlando e non c'è nessun'altra persona qui e ho questa angoscia ho questa paura quest'ansia non so come descriverla ma questa sensazione di di qualcosa di pesante che è qui qui o qui non so ma qualcosa che veramente mi limita e sono dei pensieri che non sono dannosi ragazzi e mi sono bloccato e sapete qual è la cosa la cosa più ironica è che io sono insegnante insegno l'inglese lo spagnolo ho insegnato l'inglese ho insegnato lo spagnolo e ho aiutato tantissima gente ad imparare l'inglese e lo spagnolo e e a queste persone a queste persone gli ho dato motivazione le ho ispirate le ho le ho gli ho dati dei consigli per aiutarli ma questi consigli ma perché non posso utilizzare gli stessi consigli gli stessi consigli per me perché non posso e quando ho pensato a questa domanda ho cominciato a riflettere penso di aver detto riflettare riflettere dai ne ho pensato tanto e mi sono reso conto che dovevo smettere di fare questo autosabotaggio e dovevo provarci dovevo provarci fare questo video e se alla fine ho un video di m ho un video di m e non succede niente che ne posso fare un altro e 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 non succede nulla infatti avevo fatto questo con con le altre lingue che imparavo cioè avevo un canale in cui c'erano video solamente in greco avevo un canale in cui c'erano video in inglese e avevo anche un canale in spagnolo e non sono la più ma li avevo ho cominciato a pensare a questo e ho deciso di condividerlo con voi perché sicuramente alcuni di voi avete imparate alcuna lingua e avete sentito questa angoscia quando cercate di praticare oppure cercate di imparare specialmente da soli e penso ci siano tantissimi fattori fattori aspetti psicologici che meritano la nostra attenzione per esempio questa angoscia questo stress al di là della routine e quante ore siamo persone ragazzi siamo siamo persone e quando impariamo una lingua cercamo di tradurre anche la nostra personalità non sono non è soltanto un elenco di parole non sono soltanto le parole sono anche le emozioni sono anche i nostri scherzi i scherzi che diciamo nella madrelingua per esempio e non è è molto difficile di fare tutto questo e può essere veramente un incubo può essere veramente qualcosa di di sgradevole molto sgradevole se cerchiamo di essere perfetti l'obiettivo è la comunicazione non è la perfezione e parlo ovviamente in questo contesto in un contesto accademico in un contesto di prove di livello faremmo delle cose diverse allora e dopo questo periodo in cui non studiavo nulla non studiavo italiano non leggeva non faceva nulla è arrivato il 2022 l'anno scorso ho deciso di ricominciare ho cominciato a seguire dei canali di insegnanti di italiano Stefano e Vaporetto Italiano e ce ne sono tanti e Learn Italian with Lucrezia e ce ne sono tanti e mi sono reso conto che non parlavo in italiano di youtube non piacciono queste parolacce ma mi sono reso conto dai Ruben magari non non sia un italiano perfetto ma ci provi piano piano ho cominciato ho ripreso l'italiano ed ho cominciato a scrivere e praticare e per questo motivo faccio questo video perché ho paura avevo paura di parlare e avevo questi pensieri invasivi che non mi lasciavano e non so perché perché questo successo con l'italiano penso sia anche successo con il francese ma il francese merita anche un video proprio in francese potrei cercare di farlo ma non so penso il mio francese adesso sia peggiore del mio italiano allora dopo avervi parlato su questo tema questa situazione questi fattori psicologici e vorrei parlare sui problemi che sto trovando sulle mie difficoltà in questo momento con l'italiano la prima è il congiuntivo perché non l'ho studiato lo ammetto non l'ho studiato e quando ero all'università ci siamo smessi penso nel presente di congiuntivo è congiuntivo presente e non non so come utilizzare le altre so chi cosa so che cosa è la concordanza dei tempi perché sono insegnante ma la concordanza in spagnolo è un po diversa dalla concordanza in italiano quindi devo praticare questo in secondo luogo direi la pronuncia ma la pronuncia più specificamente è dove si mette l'accento orale perché sapete che in italiano c'è un accento scritto ma non si mette in tutte le parole non si mette su tutte le parole e c'è un accento orale e questo accento orale non ha per me non è che non abbia senso sicuramente ha senso ma per me è un pochino difficile perché soprattutto nelle parole che si rassomigliano molto a parole spagnole in terzo luogo aggiungerei i false friends cioè queste parole che hanno significati diversi e che sono come parole spagnole spagnole ma non hanno lo stesso significato per esempio molestar e molestare in italiano sì e adesso direi queste tre cose sto studiando sto praticando sto scrivendo un po di più e sicuramente vi farò un video update con i quaderni nel futuro nel futuro prossimo non so ma nel futuro vi farò un video con i quaderni e come li ho riempiti questo è il video ragazzi mi viene da piangere in questo momento anche se può sembrare esagerato ma in questo momento mi ho voglia di piangere non so non so come è successa questa cosa ma avevo panico di questa lingua e non so perché allora nei commenti me lo potete dire ruben ce l'hai fatta ruben ce l'hai fatta hai fatto il primo video in italiano e ne puoi ne puoi fare altri questo è stato il mio primo video in italiano spero vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo grazie grazie mille per i commenti grazie mille per le vostre storie e grazie mille per avervi iscritto nel mio canale spero vi piacciano tutte le cose che sto preparando e come dicevo ci vediamo nel prossimo video un bacione e ciao ciao